Ebbene ci siamo, è finalmente possibile installare Ubuntu Desktop anche su Raspberry Pi. Ciao sono Zane di Turbola.it e nei prossimi minuti vedremo esattamente come installare Ubuntu Desktop, quindi l'edizione dedicata ai PC con l'interfaccia grafica, il desktop, la possibilità di utilizzare la mail, il web e tutte le applicazioni tradizionali sul piccolo Raspberry Pi. Così facendo otterremo quindi un mini computer completamente economico ma ben funzionante per svolgere tutte le attività quotidiane di studio, lavoro, applicazioni office e utilizzo del web se l'argomento ti interessa. Seguimi! Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. La precisazione Ubuntu Desktop in questo contesto è sicuramente molto importante. Prima di ottobre 2020 infatti era possibile installare solo Ubuntu Server su Raspberry Pi, ovvero l'edizione sprovvista dell'interfaccia grafica. O volendo si poteva un po' smanettare per ottenere anche l'ambiente desktop ma non era comunque una situazione ufficiale e supportata da Canonical, quindi lo sviluppatore di Ubuntu. A partire da fine ottobre 2020 è invece possibile installare proprio Ubuntu Desktop completo in versione ufficiale sponsorizzato e emesso direttamente da Canonical. Questo ha un grandissimo vantaggio innanzitutto perché abbiamo una configurazione supportata, oltre al fatto che Canonical stessa ha applicato una serie di ottimizzazioni e migliorie specifiche per Raspberry Pi in modo che il sistema operativo giri al meglio anche sul processore limitato del nostro computerino. La limitazione principale di questo nuovo approccio è che è necessario un Raspberry Pi dotato almeno di 4 GB di RAM, 4 o più GB di RAM. Questo significa che tutte le vecchie generazioni Raspberry Pi 3, 2 e Raspberry Pi originale non potranno accedere alla configurazione che andremo a dettagliare fra poco. Per il resto non ci sono altri requisiti particolarmente significativi. Ci servirà chiaramente un PC di lavoro, quindi un PC con Windows, Linux oppure Mac, una chiavetta USB da almeno 8 GB di capacità, il mouse, la tastiera e lo schermo e l'alimentatore per il nostro Raspberry Pi e una connessione a internet veloce proprio per scaricare il sistema operativo Ubuntu. Una precisazione, io raccomando di utilizzare una chiavetta USB veloce 3.0 come questa, se vi interessa trovate il link a questo specifico modello che ho utilizzato io nella descrizione del video qui sotto. Ora, tecnicamente potresti utilizzare anche la microSD, quindi la schedina che va inserita direttamente a Raspberry Pi, però nella mia esperienza la maggior velocità della chiavetta USB rispetto alla schedina microSD si fa sicuramente sentire e utilizzando appunto la chiavetta è tutto molto più veloce e piacevole da utilizzare. Bene, basta chiacchiere, entriamo nel video della trattazione, iniziamo sicuramente collegando la nostra chiavetta USB al PC di lavoro e dopodiché spostiamoci sul PC da lavoro. Apriamo il nostro browser web, apriamo questo indirizzo turbola.it barra 3069. Vremo mandati a questa pagina che è appunto la versione testuale di questo stesso video che state guardando in questo momento, da qui ci interessa seguire il link scarica Raspberry Pi Imager. Si aprirà questa pagina ufficiale della Raspberry Pi dalla quale dovremo andare a scaricare appunto l'applicazione, scegliamo qui per il nostro sistema operativo Raspberry Pi Imager che è l'applicazione che noi tutti conosciamo e che ci permette appunto di scrivere i sistemi operativi su e creare delle chiavette USB oppure delle schedine microSD in grado di avviare il nostro computerino. Una volta scaricato il file avremo a disposizione un eseguibile come questo, lo dovremo aprire e seguire la rapidissima procedura di installazione quindi dal menu avvio andremo a lanciare il programma Raspberry Pi Imager, eccolo qua. Dalla schermata principale del programma, clicchiamo sul primo pulsante Choose OS, eccolo qua, scorriamo la nostra lista e selezioniamo Ubuntu. Dal secondo menu aperto si invece dobbiamo selezionare la voce Ubuntu Desktop. Per i motivi che spiegavo in precedenza mi raccomando fare attenzione a selezionare proprio Desktop e no l'edizione Server. Una volta cliccato Desktop si ritorna alla schermata principale, da qui dobbiamo scegliere la destinazione sulla quale andremo a scrivere il sistema operativo. Ora come vedete io ho già inserito la chiavetta, prima di selezionarla un'accortezza ricordate che tutto quello che è attualmente presente sulla chiavetta verrà eliminato quindi assicuratevi che non ci siano dei dati importanti e se ci sono salvateli sul PC prima di proseguire. Ok, selezioniamo quindi la chiavetta e a questo punto è tutto pronto, basta cliccare su Write per scrivere effettivamente la versione di Ubuntu che abbiamo selezionato all'interno della nostra chiavetta oppure schedina microSD. L'operazione nel suo complesso richiede più o meno un'oretta perché dovremo innanzitutto scaricare i 2 GB che compongono Ubuntu dal server remoto e quindi trasferirli sulla nostra memoria esterna, quindi più o meno sarà necessaria un'oretta. Non appena riceviamo la conferma che la scrittura è stata completata chiudiamo completamente il programma e dopodiché utilizziamo la funzionalità rimozione sicura hardware, quindi l'icconcina che si trova vicino all'orologio per assicurarci di espellere, quindi rimuovere in modo sicuro la chiavetta prima di staccarla fisicamente dal computer. Ora spostiamoci su Raspberry Pi, se avete seguito il mio suggerimento e avete utilizzato una chiavetta USB c'è un passaggio aggiuntivo da fare, ovvero dovete aggiornare il bootloader del Raspberry Pi all'ultimissima versione. Trovate tutte le indicazioni per svolgere questa operazione nel link che vi lascio qua sopra. Terminate anche questa fase, è davvero tutto pronto, quindi assicuriamoci che il Raspberry Pi sia spento e scollegato quindi dall'alimentazione, rimuoviamo la schedina microSD se per caso ce n'è già una inserita inseriamo la chiavetta USB oppure la scheda microSD con Ubuntu, quindi quella che abbiamo preparato poco fa a questo punto prestate attenzione mi raccomando perché il Raspberry Pi ha sia porte nere che porte blu noi vogliamo assicurarci di utilizzare le porte USB blu perché sono quelle 3.0 e che ci garantiscono proprio la massima velocità. Ora prepariamo il Raspberry Pi, quindi colleghiamo lo schermo, la tastiera, il mouse e tutto il resto e quindi infine colleghiamo l'alimentazione per accendere effettivamente il nostro computerino. Da qui ci spostiamo sullo schermo di Raspberry Pi per vedere come proseguire. Eccomi qua, mi sono spostato dietro la telecamera, sto inquadrando il mio monitor, ho collegato appunto il Raspberry Pi e ho avviato adesso l'accensione del computerino. Abbiamo visto rapidamente flashato il BIOS iniziale del Raspberry e a questo punto dovrebbe apparirci la schermata di caricamento del nostro Ubuntu. Ed eccolo qui, logo in basso, carichino al centro, dobbiamo solo attendere. Eccolo qua, il nostro classico desktop di Ubuntu. Ci sono un paio di configurazioni che probabilmente vorremmo svolgere immediatamente. Ad esempio, se selezioniamo qui impostazioni dello schermo dovremo notare, eccolo qua infatti, che la risoluzione massima in questo momento è selezionabile a 1280x720 che è chiaramente inferiore alla risoluzione 4K dello schermo che sto utilizzando in questo momento. Andremo comunque a risolvere il problema tra un attimo. Prima ancora però, chiudiamo tutto quanto, apriamo il nostro Firefox e portiamoci a questo indirizzo, turbolob.it barra 199. Perché ci interessa aggiornare, chiudiamo l'altra tab, quella di Firefox, ci interessa infatti aggiornare il nostro sistema operativo installando tutti gli ultimi aggiornamenti disponibili. Ci sono vari modi per farlo. Il mio comando preferito sicuramente è quello che abbiamo raccolto nel nostro script ZZUpdate. Quindi selezioniamo tutto il comando per installare ZZUpdate. A questo spunto andiamo qui nei tre pallini, cerchiamo Terminale per avviare il terminale. Eccolo qua, incolliamo il comando che abbiamo appena copiato, confermiamo la nostra password ed ecco qua, verrà installato il comando ZZUpdate che ci permette di aggiornare rapidissimamente tutto il nostro sistema operativo senza dover impartire un milione di comandi manualmente. Eccoci qua, appena siamo tornati al prompt del comando, lanciamo il nostro comando sudo ZZUpdate.it Al termine dell'aggiornamento il nostro script procederà a riavviare automaticamente il Raspberry Pi. Non appena tornati ad Ubuntu dobbiamo risolvere il problema della bassa risoluzione dello schermo. Apriamo quindi il nostro articolo Turbola.it barra 3069, spostiamoci qui nella sezione dove ci sono le indicazioni per migliorare il problema della risoluzione e prendiamo appunto ctrl alt e t per aprire rapidamente il terminale. Copiamo quindi tutto il comando sudo apt install, eccolo qui, perché dobbiamo scaricare automaticamente uno script che abbiamo preparato noi che corregge questo problema. Incolliamolo nel terminale, battiamo invio, digitiamo la nostra password, eccola qua, e attendiamo l'installazione. Lo schermo diventa per un attimo nero e se tutto è andato bene, come vedete in questo momento, il problema della risoluzione è stato risolto perché lo schermo è appunto a 1920x1080p, quindi risoluzione full HD. Ora c'è da dire che il comando che abbiamo appena lanciato avrà effetto solamente fino al primo riavvio del nostro computerino. Per far sì che la modifica diventi permanente e quindi il problema della risoluzione sia definitivamente risolto, dobbiamo far sì che questo script venga eseguito ogni volta che accendiamo il Raspberry Pi. Allo scopo, spostiamoci qui sempre sotto all'articolo, c'è un altro comando che dobbiamo lanciare, quindi questo scaricherà lo stesso script che abbiamo appena eseguito nella cartella di esecuzione automatica, eccola qua, d'ora in poi ad ogni riavvio verrà automaticamente impostata la risoluzione full HD. Sistema operativo aggiornato, problema della risoluzione risolto, possiamo sicuramente cominciare a utilizzare per davvero il computerino per fare le nostre cose. Ad esempio uno degli usi per i quali può essere interessante questa soluzione è sicuramente per andare a navigare un po' sul web, sicuramente come vedete in questo momento il caricamento delle pagine non è velocissimo, non siamo all'altezza dei portatili moderni, anche magari quelli di fascia economica, però sicuramente è più che dignitoso per una soluzione economica che serve appunto per navigare distrattamente sul web, per fare delle operazioni di studio e lavoro. Come vedete una volta che le pagine sono caricate anche lo scorrimento è sicuramente fluido e piuttosto accettabile e quindi va benissimo per questo tipo di attività. Ecco facciamo la nostra prova classica, copiamo quindi il logo di Turbolab.it, lanciamo Writer, quindi il programma di videoscrittura della suite OpenOffice anche qui come vedete c'è un pochino di ritardo nell'avvio del programma, però sicuramente una volta che il programma è avviato è più che utilizzabile. Ok scriviamo ciao da e poi andiamo ad incollare il nostro logo, perfetto non ci sono problemi, lo possiamo anche riposizionare e ridimensionare senza grossi problemi, è comunque tutto piuttosto fluido. Bene da zanaditurbla.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi Windows, Linux, Android, Raspberry Pi, ma anche Bitcoin, criptovalute e mondo tecnologico in generale, non dimenticare di iscriverti cliccando sul grande pulsante rosso, iscriviti e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando la piccola campanella. Al prossimo video, ciao!